segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te questo è il momento di pensare alla vita è il momento di pensare alla salute delle persone purtroppo è una situazione che non riusciamo più a contenere a monitorare questa realtà può protrarsi per altre diverse ore quindi cerchiamo di mantenere la calma il comune c'è siamo attenti a raccogliere segnalazioni in questa fase non pensiamo ad allagamenti perché la macchina comunale la macchina dei nostri servizi non è più in grado di fare queste operazioni tra l'altro aggiunto